E allora, altro video ragazzi, in quello di prima avete visto com'è andata, la noi è la stessa sera, quindi io ancora vivo nella tragedia di quello che è successo prima, questo è quello suo, sto aprendo il suo, che vi ricordo, ho deciso di scambiare un secondo prima, perché lui dei due è quello fortunato, ho deciso, facciamo una cosa Luca, quale hai scelto? Quello? Scambiamolo! Questo è il pull di prima, questo è questo, roba che già ho. E peggio di così non si può fare. Quindi, non vi sto, lo sapete dal video precedente, appunto, se volete vedere cosa c'è qui dentro, lo apriamo alla velocità della luce, sapete cosa c'era dentro? Ma? Cosa c'era? Ah, eccolo, che vuoi? Ho detto non ci credo, ho detto se non c'è più dentro nemmeno qui c'è qualcosa di losco, l'hanno aperto quelli che lavoravano al Toys. E andiamo avanti, signori. Chiudiamo, vai, tieni pure. E si riparte, ragazzi. Fare peggio, ragazzi, è veramente, è difficile. Ma a questo giochino non c'è il limite. E ripartiamo. Fa ridere, eh? Sempre bello, primo pacchetto. Primo pacchetto, Charizard e Von Carcere. Allora, codicino per voi al solito, sempre girato al contrario. Eccolo lì. Una carta si gira. Energia base, subito, holo. Eevee, domo fossile, Weedle, Zubat, aiuto di margi, Venomoth, Rapidash, un Porygon, un Magneton e un Kabutops. Siamo rimasti sulla stessa messa. Sì, 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 sì. A meno questo. Ah, queste sono tue. Sì, grazie. E andiamo avanti, signori. Non c'ho la serenità necessaria per andare avanti. No, al di là di tutto. Cioè, se va male anche il suo, ho paura che il problema potrebbe non essere stato l'Ultra Collection. Allora, codicino, come sempre. Prendetelo pure. E si parte. Energia base. Tangela, Grimer, Psyduck, Ekans, Mach, aiuto di margi, Venomoth, Reverse di Dugtrio, che sembrano tre stronzi, Ditto e Dragonite. Mi sembra che il ritmo sia quello di quello precedente. Ultra Premium Inculata. Beh, Ultra Inculata più che Ultra Premium. Andiamo avanti, signori. Noi continueremo col sorriso, ma morendo dentro. Che poi, quelli che abbiamo aperto prima, sono andati più che bene. Abbiamo appunto sul mobile dietro, abbiamo trovato una... Ci sono ripagati tutte le spese di quelle altre cose. Le due, in cui avevamo più speranza, sono quelle che effettivamente sono state più disastrose in questo momento. Secondo me è il cappello girato. Esattamente. Va girato il cappello, ve lo dico, era questo il problema. E tanto è già l'energia la sento bella a Olo. Ed è quella a fuoco. Allora. Un calabrese. Meo. Execute. Preferi. Palloncino gigante. Il padre del calabrese. Fibro. Un bel Bulbasaur. È la prima però, è calma. È la prima? È il Godpuck se è la prima. Ce n'è un altro. È il Godpuck. È il Godpuck. È il Godpuck. Eccolo. Il Godpuck. È la prima. Perché se è la prima è il Godpuck. E io ho scambiato l'ultra premium. Non ci vedo. Bulbasaur. Ibisaur e Venasaur, ragazzi. Il famoso, vecchio e caro Godpuck. Non ci voglio vedere. Sono il voto pro l'hai sbustato te. L'ho sbustato io. Quindi tutto mio. Però cazzo bello. Meno male. Sono contento che non sono le mie mani. E che appena hai detto. È al primo. Io so che se lo trovi al primo è per forza. Che spettacolo. Infatti è la Bulbasaur. Che bellezza. Che bellezza. Madonna che spettacolo. Quindi poteva succedere con Charmander, Charmander e Charmander. E io morivo qui. Il Godpuck lo fanno loro tre. Con Squilto, il Bulbasaur. Tra l'altro, sbaglio, sembra anche che c'entravo bene il Bulbasaur. Tutti bellici. Poi è quello che ho venduto io l'altro giorno. Bella roba. Bella, bella. Bellissima. Io oggi mi lantavo e non avevo mai trovato il Godpuck e che non avrei smesso. Io oggi nel gruppo ho scritto. E oggi è smesso. Tutto tuo. Ok. Finalmente. Sono contento. Non è mio. Rosico su come un cane. Pensa già il titolo del video. Ho trovato il Godpuck di Bulbasaur. Eh cavolo. Comunque. No vabbè si sa. Ora non c'ho poi di risultare. Per effettivamente ragione della tua. E lo so. E lo so. E' così che dobbiamo fare. Giriamo. Energia base ragazzi. Psico. Geodud. Jigglypuff. Starium. Charmander. Raidon. Exeggutor. Benda rigida. Pidgey. Reverso. Voltorb. E un altro. Questo è lo strappo. Questi sono tuoi. E questi te li posso mettere qui dentro. Il nostro ragazzi abbiamo fatto. Perché con quelle tre carte. Sono praticamente 90 euro. Praticamente. Euro più euro meno. E con quelle cartine lì ci siamo assicurati. Tanta roba. E allora. Altro appunto codicino. Riscattatelo pure. E andiamo sotto. Giriamo. Energia Psico. PG8. Magmar. Sheldr. Bellsprout. Raidon. Exeggutor. Benda rigida. E Kingler Reverse All. Sandslash. E Vaporeon signori. Bellissimo. E' l'altro. Eh si però purtroppo. Fatti tutte così quelle lì. Andiamo avanti. Sono più tranquillo eh. Cioè sono più tranquillo perché. Mi era venuto veramente il dubbio della roba che ho trovato io. Nel mio. E se il suo fosse andato male. Pure il suo. C'era qualcosa. Poi trovi le arti incollate. C'era qualcosa di strano. Andiamo. E giriamo. Anche perché sennò ti metto le mani addosso. Facile no? C'era un modo di farsi perdonare. Dobbiamo fare affari più tardi. E andiamo signori. Giriamo. Codicino per voi. Incredibile. Ho imparato a girare i dritti. Andiamo avanti. Energia base. Come quello di prima. Grimer. Psyduck. Tecans. Cuban. Arcanine. Tentacruel. Snorlax. Eevee. Niente. O meglio Magma. Il rosso sulla seconda è sempre brivile. E Gerido. Sì il rosso. Il rosso sulla seconda sono brivile. Io col fuoco già è amore per conto mio. Perché amo proprio il Pokémon di fuoco. Mi ricordo i miei starter erano questo signorino che vedete qui. Ninetales. I starter. I miei Pokémon che mettevano il 6 fondamentalmente. Giustamente. Era lui. Era Charizard. Era Ninetales. Era Arcanine. Era Flareon. Era Moltres. Sono più belli. Sono più fuoco di fuoco sempre amati. Per quell'ora col passare degli anni sono un po' come vi posso dire sono un pochetto prevenuto sui Pokémon nuovi. Innanzitutto non sono belli come quelli vecchi. E poi molti purtroppo secondo me non... Sono Digimon ormai. Sì. Perché della nostra generazione i primi 151 sono veramente... Magnifici. Un'altra cosa. PG. Omanite. Taurus. Cadabra. Anche lui mi piaceva da morire. Squirtle. Questo io non ce l'ho. Niente. Allora... Puoi prenderlo senza fornire. Diciamo che ti devo ringraziare. Non posso... Non posso sibrirmi da questa cosa. Ah, questo. Perfetto. Allora, quanti pacchi abbiamo? Io non so. Quattro. Eh, sei, otto. Ci pensi, Salvone? Non puoi farti incazzare. No, no. Ma ci mancano anche lei. Sono inelottabile. Io ho trovato più pure in un pacchetto. Che è il Preno Ultra Premium Collection. Esattamente. Cioè, ma ti ne andi conto. Eh, che devi fare. No, ma... Io mi piacerebbe sapere se funzionano. Cioè, in base a cosa... Se i pacchetti sono presi. Io non penso che siano presi... Io, quello che ti volevo chiedere prima, ero curioso proprio di quello. Se, appunto... Era così. No, vedevo di sbagliare. Dei pool garantiti ci saranno? Sì, io penso di sì, che un pool garantito ci potrebbe essere, ma ho il dubbio a sto punto, vedendo il mio, vedendo poi anche il tuo, sì, che fondamentalmente te lo garantiscono uno, ma io credo che ci avranno, magari dico una cazzata, dei macchinari in cui fanno dei pacchetti in un certo modo, dei pacchetti con i pool, magari hanno una percentuale. Cioè, è tutto randomico, però è un randomico controllato. Ci sono comunque quelli messi molto meglio, quelli normali e quelli... Poi ho il dubbio che, ad esempio, un ETB o quella roba là, ovviamente, loro mandano i pacchetti e tirano tutto dentro. Certo. Ho il dubbio che poi io, se non mi sbaglio, io ne ho aperti due di questi qui, oltre il tuo. Ah, quindi è il mio terzo. E questo è il terzo che apro. Il mio, il primissimo, che se non mi sbaglio non andò benissimo, meglio di questo, ma non tanto meglio. Ok. E questo che è un'indecenza, è stato? Illegale, direi, quasi. Ah, lo... vabbè. Mi faremo una ragione, no? Diciamo che... Spoilerato, va bene. Non mi ricordavo se avevo girato un'energia. Questo ce l'ho, però, quindi l'invidia non è... Potrebbe sempre esserci un doppio pool. Potrebbe esserci Charizard a questo punto, ma molto. Magna e maestà, ok. Però, guarda, mi sto... Vabbè, si piglia, si piange. Diciamo, insomma, quei... Non lo so, 15 euro che non fanno schifo. Non fanno schifo. No, tutto quel che trovo in più fa tutto piacere. Andiamo avanti. Con gli ultimi 5, quanti sono? No, qualcosa in più. E' un 7. Gli ultimi 7 pacchi. E' Olo e parecchio liscio, no? Era Olo. Energia Olo. Poliwhirl, Kakuna. Poliwak. Ponita. Isaur. Slowbro. Magiok. Con Yugong. Widow. E un Flareon. Comunque sì, raga, io più passo al tempo e più sono totalmente della mia convinzione. Meglio prendere 5-6 tin o prendere gli Alakazam, le collezioni piccoli, in più che prendere questa roba qui grossa. Questa roba qui grossa, continuo nella mia battaglia di dire, si prende, non si ha. Ne vuoi prendere uno, lo apri per ridere, ti diverti. Se ne vuoi prendere la seconda, deve rimanere chiusa dentro un mobile. Sì, anche perché comunque il pull è garantito almeno uno, sia un EX o un... Io sto pacchetto l'ho aperto con molta facilità. Speriamo sia un altro compaccio. Comunque, io devo venire sempre a spacchettare a casa tua. Non lo so se ti ci voglio io, però a sto punto. Devo dire che non mi dispiace. Energia base. Electabass. Koffing. Tangela. Grimer. Goldak. Pinzier. Trasferimento di Bill. E il mio tuo, a me, a me, il Balward Ray tutta la sera. Poi il Revest è ancora più bello in questo... War Turtle. E un altro Dragon, anche Dragon. Diziano di me abbiamo bisogno di un po' più spazio, Dragon. Perché Dragon è effettivamente bellissimo, è una delle parti più belle, ma soprattutto uno dei 151 più forti. Vedo ora che fanno il trentesimo a vedere che cosa si inventano. Eh, il trentesimo... Il trentesimo speriamo ad avere 100.000 su YouTube. E si porta molto contenuto. E si porta molto contenuto. Io ragazzi vi rinnovo... Ultimi 5 pacchetti. Se vi va di lasciare appunto un cuoricino al canale, non costa niente, a me fa un sacco piacere. Sapete, ho questa passione come voi, oltre che per FIFA. Sono il maschio medio. FIFA, Pokémon e poi la pezza cosa non staremo qui a parlarvene. E allora, giriamo sotto. Per soltanto non era Milan. Non era il Milan, anzi, è questa. Allora, energia base. D'Angela, Grimer. Io dopo aver visto il pacchetto God, Ekans. Exeggutor. Venda rigida. Gravelor. E Ponita. Paras. E un Jolteon. Io secondo me, guarda, ti dico la mia? Non si trova più niente di qui alla fine, secondo me. Può darsi, può darsi, ma se ti fa trovare una roba del genere... Esattamente, sei felicissimo e sei contentissimo. Però, nella mia testa, sincero, questo Aura, cioè quei tre che ho aperto, ho tolto quello che è un miracolo, quello che è successo prima. E comunque, se ci pensi, al di là dello sconto, se non fosse stato preso lo sconto, sareste andato sotto anche a sto giro. Adora. Ma facile. Adora. Poi, ovvio, magari, insomma, ora scuri un'altra carta da 30-40 euro e dici... E allora si gode. Ancora io dopo aver visto il God Pack, Ekans, Cubone, Vulpix, Golbat, Avanzi, Persien, Revezzolo di Hunter, Calma. Raifu. E Omastar. Io ti ho detto come va a finire. Sei felicissimo di quella? Sì, più che altro perché è rarissimo. Ora non mi ricordo. No, poter dire, oh, ho trovato il God Pack. Dissero le medie di quanto era un God Pack ogni mille pacchetti, una roba del genere, forse ogni diecimila. Perché sei passato sui mille. Però, per ogni senso, al di là di quello, se uno pensa prettamente al rientro della spesa e praticamente se uno trovi i Charizard con queste collezioni... Quasi impossibile. Cioè, dovessi trovare quattro io. Non vi ho detto, a fronte a prima, poi se poi vi facciamo vedere che cosa abbiamo pullato prima. Ivi, Domo Fossile, da cui veniva accaputo. Widow, Zubat, Trestronzi, Clefable, Tentacruel, Zubat. Felice di sbagliarmi, eh, pacchetti che non si troppa più nulla di qui alla fine. Però, boh, ho purtroppo paura di avere, paura del presentimento di aver ragione. Ultimi due, signore e signori. Andiamo avanti. Comparsimonia. Dunque ci sta anche la ala azzam che vanno fuori, sì, dal nulla. È vero, non ce l'ho pensato a quello. Codicino, sempre per i boh. Vai. Ci sarà un arbochiex. Le carte di scivano. Ero S. Il pulce è stato, anche se non possiamo neanche essere contenti. Clefairy, Machop, Porygon, Electabuzz, Fearow, Onyx, Dragonair. E si incolla le carte. È come prima, incollata, vedi? Invito di Erika. Ah, prendete l'invito di Erika, quello grosso, non l'ho mai trovata. Calma. C'è una carta, c'è un pull. Che visto di quel colore dovrebbe essere Dragonair. Stavo pensando anche a lui. Poliwirr, che è meglio di un cazzotto in bocca, però è un pull. Comunque nel totale, perché poi una carta particolare non è brutta. No, no, ma io le full art, guarda, è bellissima. Sono tutte belle. C'è, sincero, braggio e disegnatori fanno paura. Fanno veramente paura. Genio. Un po' peggio di le stampo, però. Sì, sicuramente. Però bella, vai. A sto punto... Sono felicissimo, non mi aspettavo neanche sto pull. A sto punto si può dire... Quella che è una quindicina d'euro, non è una delle full art più costose. No, 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 infatti. Però a sto punto non ci si può lamentare, visto quel pacchetto assurdo di questa lezione. Perché comunque sia qualcosa dato. Certo, poteva andare meglio, visto che comunque sono tanti pacchetti. Eh, sono sei, 32 pacchetti. Fai 32 pacchetti, quanti pull? Energia mi sembra Olo, giusto? Eh, sì, l'avevo sentita. Di acqua. Chiamabella Stoys, ragazzi. Sarebbe l'ottimo... Sarebbe il finale perfetto. Ma lo sappiamo. Tangela, Grimer, Omanite, Taurus, Cadabra e poi Firo. E qui sotto si è. Eh sì, se è lì. E se tiriamo via l'ultimo? Non ho voglia. Sarebbe esserci di Blastoise Full Art, se l'ho dato all'ultimo. Questo è Vaporeon, che è sempre acqua. E qui? Un cazzo. Bisogna essere onesti. Però, ripeto, la mia teoria, questo è andato sicuramente meglio di quello che era mio, perché comunque ho trovato un godpack ogni quant'è, mille, diecimila pacchi. E comunque è una goduria, eh. Più che altro ha aperto anche il like. Comunque non è scontato, visto che non ha apre le pacche. Esattamente, esattamente. Quindi siamo... Dai, nel complesso, nel mio, male, molto male, perché mi è andato malissimo. Cioè, nel mio, l'avete visto il video precedente che ho trovato. Qua un godpack di tipo erba, con appunto lo starter Bulbasaur, Ivysaur e Vinasaur. Vinasaur, poi un Poliwhirl e comunque un Alakazam, centino Lisfori, cento euro, forse quasi rientrato forse con la spesa, ripeto. Abbiamo preso a sconto, 119 euro a testa invece che 149. È la cosa più costosa che si può comprare di 151. Però, dai, almeno l'importante, ci abbiamo fatto contenuto, ci siamo fatti due risate. Abbiamo chiacchierato, appunto, di quello che ci piace di più, che sono i Pokémon. Come sempre, spero il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come sempre, lasciate un cuoricione, ripeto, costa niente. Guardate, siamo tutti sperati. Se volete vedere Luca, scrivetemelo. Scrivete, vogliamo Luca, e poi vediamo se lo libero Luca dopo tutto quello che ha trovato. Dove aver scambiato. Esatto, lo avessi cambiato, esatto. Quindi scrivete pure FreeLuca. Spero questa serie Pokémon vi piaccia, ragazzi. E quindi io vi mando un bacio, un saluto e diventeremo gli allenatori più grandi del mondo. O coppio un culo.